il treno 5 un po ma di un'altra cosa domani questa nuova attività con questa treno 5 che ormai la conosciamo abbastanza bene è una torrello motors speriamo di fare le montagne speriamo di fare anche la piccola e la classe non è molto pesante Matteo ma mi pare che non ci scolleggiamo e ti rendono abbastanza carico e motivato no non so Matteo c'eri a montagna ci sei affatti qui sarai tutto va bene? deve andare bene Matteucci ma uno delugare buonasera a tutti come siamo siamo abbastanza carichi negli occhi ti metti una carica non è differente non è vero siamo abbastanza carichi invece tu domani questo viene facciamo spezzare il paletto Matteo Scarpini 51 Scarpini di Luca non 51 PN4 va bene Grazie a tutti. Scusa. 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 Scusa.